Trovato? No, stiamo vedendo perché la posso cercare. Abbiamo qui una piccola mostra. Questa è la Motorola, Icom, Ieso, Icom, quella digitale. Questa è la Motorola. Ha mandato la chiamata? No. Io vale! 5-0-0-0-0-0-0, Sena Vitor per prova, parato, passo. Eppure l'ho chiamato loro. Sì, sì. È arrivata la selezione. Ecco. Avanti, 0-0-0, Sena Vitor per prova, parato, passo. Arriva Tron. Ok, un po'